Anno dopo anno, il Forum Economico Mondiale si riunisce a Davos, in Svizzera, per migliorare lo stato del mondo. Anno dopo anno, l'abisso tra poveri e super ricchi si fa sempre più grande. L'ultimo rapporto Oxfam sulla disuguaglianza nel mondo riconferma questa tendenza, registrando nel 2017 una crescita record del numero dei miliardari, con una new entry ogni 48 ore. La loro ricchezza complessiva è aumentata di 762 miliardi in 12 mesi, una cifra che avrebbe potuto mettere fine alla povertà estrema per ben 7 volte. Ma la metà più povera del pianeta non ha visto alcun miglioramento nelle sue condizioni di vita. L'82% della ricchezza mondiale generata nel 2017 si è infatti concentrata nelle mani dell'1%, tanto che oggi le 42 persone più ricche del mondo possiedono tanto quanto i 3,7 miliardi di persone più povere. I paesi sviluppati non fanno eccezione. Negli Stati Uniti, Bill Gates, Jeff Bezos e Warren Buffett possiedono più ricchezza della metà più povera degli americani. A determinare l'aumento della disuguaglianza nel mondo, afferma Oxfam, la violazione dei diritti dei lavoratori è l'influenza delle grandi imprese sulla politica degli stati. Ne è un esempio concreto la decisione di Washington del 2009 di ridurre il salario minimo di Haiti, il paese più povero di tutto il continente americano, per salvaguardare i profitti delle multinazionali statunitensi. Il nemico numero uno degli Stati Uniti non è il terrorismo internazionale, bensì Cina e Russia. Lo si legge nella nuova strategia di difesa nazionale pubblicata venerdì scorso sul sito del Pentagono. Il suo capo James Mattis ha annunciato che d'ora in avanti la priorità della difesa statunitense sarà la rivalità tra le grandi potenze. L'obiettivo? Quello di ripristinare il predominio militare degli Stati Uniti, per dissuadere Russia e Cina dal rovesciare l'ordine internazionale tanto caro agli americani. Via libera quindi all'uso di nuove tecnologie e concetti operativi per rendere l'esercito a stelle strisce ancora più agile e letale. Accusate di danneggiare gli interessi degli Stati Uniti in Europa, nella regione dell'Indo-Pacifico e in Medio Oriente, Russia e Cina non hanno accolto con favore la dichiarazione di guerra di Washington. Invece di dialogare, si rammarica Mosca, Washington vuole dimostrare la sua leadership attraverso lo scontro. Pechino da parte sua ha esortato gli americani ad abbandonare la loro visione del mondo da guerra fredda e a valutare la politica cinese di sicurezza nazionale in modo razionale e obiettivo. La militarizzazione del mare cinese meridionale, conclude Pechino, è frutto dell'operato di altri paesi che non vogliono la pace nella regione. E' un grande onore per me essere a Gerusalemme, capitale di Israele. Lo ha dichiarato lunedì il Vice Presidente degli Stati Uniti Mike Pence, annunciando che entro la fine del 2019 l'Ambasciata degli Stati Uniti sarà trasferita da Tel Aviv alla Città Santa. Ringraziando Mike Pence e Donald Trump per il riconoscimento di Gerusalemme capitale di Israele, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha fatto sapere che l'alleanza tra Stati Uniti e Israele è più forte che mai. Di altro avviso i deputati arabo-israeliani della Knesset, che hanno interrotto l'intervento di Pence in Parlamento innalzando cartelli di protesta. Contemporaneamente il Presidente palestinese Mahmoud Abbas, in visita a Bruxelles, ha chiesto all'Unione Europea di riconoscere al più presto lo Stato di Palestina. Per tutta risposta, il capo della diplomazia europea Federica Mogherini ha ribadito l'impegno dell'Unione per l'assoluzione dei due Stati, con Gerusalemme capitale di entrambi. Nel frattempo si svolgeva nella striscia di Gaza il più grande sciopero generale del commercio degli ultimi anni. Per la regione, da più di dieci anni vittima dell'embargo imposto da Israele, si affaccia ora il rischio del collasso economico.